Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po', cantava Dalla nel 1979. L'anno vecchio è finito ormai, scriveva il suo amico lontano, ma qualcosa ancora qui non va. E non va qualcosa nemmeno a distanza, di più di 40 anni da quel brano. La pandemia ha stravolto l'ordine delle cose, da quasi due anni ormai la nostra vita è ridimensionata. Lavorare, studiare e relazionarsi fanno i conti con la paura, la preoccupazione, insomma con il Covid. E se un anno fa abbiamo imparato a rispettare regole nuove, ad indossare sempre le mascherine e igienisare le mani, dopo 12 mesi ancora siamo in balia delle varianti del virus, ma più forti con i vaccini e con la consapevolezza di un nemico che non è più tanto invisibile. Un nuovo anno inizia e si riparte, come sempre, da dove ci eravamo lasciati e sempre per cantarla con Dalla. L'anno che sta arrivando, tra un anno passerà, io mi sto preparando e questa è la novità. E questa era la nostra copertina, è dedicata al nuovo anno, al 2022. Allora, benvenuti, questo è il Tg della prima domenica di gennaio. Tanti gli auguri che le istituzioni, la Chiesa, le parti sociali, datoriali, ma anche la gente comune hanno voluto rivolgere ai Sardi per questo nuovo appunto anno. Allora, cominciamo subito con gli auguri della Vice Ministra del Mise, Alessandra Todde. Archiviamo un altro anno difficile, speriamo che il 2022 porti tanto del bene e del buono ai Sardi. Che cosa ci auguriamo da Sarde per i Sardi? Beh, io mi auguro che un cittadino, non sardo, ma italiano, del resto d'Italia venga in Sardegna e trovi dei buoni motivi, dei bei servizi, una buona sanità, una buona competitività per le imprese per poter rimanere in Sardegna. Credo che i Sardi abbiano diritto di essere cittadini come tutti gli altri, quindi noi dobbiamo pensare e puntare su questo. Credo che ci sia sensibilità in questo momento, credo che ci siano anche le forze e le energie per poter raggiungere questo obiettivo, quindi io mi auguro un futuro brillante per la Sardegna. Io sono rientrata in Sardegna perché credo che poter lavorare per casa propria sia il privilegio più grande, quindi auguro a tutti di poter rivivere in Sardegna con degli standard che sono non nazionali, ma internazionali e essere felici di poter stare con qualità a casa propria. Credo che questo sia più che un augurio un diritto, è la cosa a cui tutti noi dobbiamo tendere, quindi auguri di buone feste e auguri di buon futuro. E proseguiamo la carrellata degli auguri con quelli del Presidente del Consiglio regionale, Michele Paes, tanti gli impegni anche per il 2022 della massima Assemblea Sarda che inizia proprio l'anno alle prese con la finanziaria. Presidente, archiviamo il 2021, un altro anno molto difficile per l'isola, ma per i prossimi 12 mesi che cosa possiamo augurare ai Sardi? Ma certamente possiamo augurare quello che si augura a tutto il mondo, ovvero lasciarci alle spalle questa terribile pandemia che sta condizionando la vita quotidiana di tutti noi. e quindi il rilancio dell'economia, del lavoro, dell'attività, delle imprese e la possibilità di rafforzare i servizi sanitari che non debbano necessariamente occuparsi purtroppo di una pandemia che ha condizionato molto anche l'attività sanitaria. Il tessuto produttivo e sociale della Sardegna ha sofferto tanto, allora in che modo il Consiglio regionale, magari con leggi e provvedimenti, può aiutare i Sardi a rilanciare appunto questo aspetto? Ci auguriamo che il 2022 sia l'anno per i Sardi perché insomma possano cogliere quelli che sono i diritti che purtroppo spesso sono stati negati. Parlo dell'avvertenza, la battaglia sull'energia rispetto al quale il Presidente Solinas si sta impegnando moltissimo e che ha strappato un risultato fondamentale ma parlo anche naturalmente dei trasporti, una battaglia con l'Europa per fare in modo che i Sardi vengano considerati al pari degli altri cittadini, non cittadini di Serie B. Quindi i diritti rispetto ai quali la Regione è impegnata in prima linea. E poi c'è una grande battaglia che vede protagonista la Sardegna, quella sull'insularità per il riconoscimento appunto in Costituzione di questo importante principio che vorrebbe appunto eliminare lo svantaggio naturale dell'essere un'isola. Beh, assolutamente sì. Il principio di insularità in Costituzione è un'altra battaglia che vede l'intera Regione unita per raggiungere un obiettivo che pare essere finalmente alla portata dei Sardi. Il riconoscimento dell'insularità che non deve essere solamente geografica ma che deve essere anche giuridica. Questo per consentire quella parità di trattamento che è prevista anche nella nostra Costituzione. E poi il lavoro, le tante vertenze ancora da risolvere come per esempio Eritali o altro e dall'esito più felice per i lavoratori come quella del Porto Canale di Cagliari. Alessandra Dari ha sentito il microfono, la Vice Presidente della Regione e Assessora del Lavoro, Alessandra Zenda. Assessora, si sta aprendo questo 2022, gli auguri per i Sardi? Ma intanto ai Sardi dico che non bisogna mai abbassare la guardia, perdere le speranze perché c'è sempre una possibilità per andare avanti. Abbiamo un futuro ancora da scrivere, magari fatto davvero di nuove possibilità nel settore sanitario, nei trasporti, nelle attività produttive. Vicinanza al mondo delle imprese, vicinanza a chi soffre, a chi è in disagio. Il tema della solidarietà sarà al centro dell'anno, così come la persona, dell'anno 2022 e credo che avremo da scrivere insieme un futuro migliore che non può che essere il nostro. Ci sono molti investimenti pronti per l'isola, quanti? Ci ricordiamo? Investimenti in infrastrutture sono tantissimi, si parte dal settore ferroviario alle strade, ai ponti, sicuramente ci sarà un rilancio dei porti, ci sarà un rilancio dell'edilizia abitativa, che è quella che poi alla fine la casa rappresenta sempre una certezza per tutti noi, ma soprattutto credo che attraverso lo sblocco della situazione dei trasporti, in particolare del trasporto aereo e marittimo, la Sardegna possa davvero avere per la prima volta l'opportunità nell'insularità. Quindi pronti a cercare un nuovo lavoro per chi non ce l'ha o per chi lo vuol cambiare? 6.200 sono i posti disponibili nei corsi di formazione? Assolutamente sì, sono addirittura 22.000, quelli destinate alle politiche attive solo del progetto Goal, ma c'è tutta la programmazione comunitaria, dovremmo essere in grado di intercettare quel vantaggio competitivo che grazie all'innovazione e alle nuove tecnologie la Sardegna ha nella disponibilità più di chiunque altro. Buon anno dunque. Grazie, buon anno a tutti i sardi. I lunghi mesi di emergenza sanitaria hanno fatto aumentare le povertà. Vecchie e nuove, tante famiglie nell'isola vivono al di sotto della soglia di sopravvivenza. Allora sentiamo gli auguri per loro della Chiesa, in particolare dell'Arcivescovo di Cagliari, Monsignor Giuseppe Baturi. Questo anno nuovo come si presenterà? Che augurio si può fare a tutti i sardi per quest'anno nuovo? Anzitutto l'augurio di un lavoro per tutti, e quindi di condizioni dignitose. Un augurio per i più giovani, perché non siano costretti ad andare via per garantirsi un futuro migliore, che possano star qui. E quindi un augurio di solidarietà e di comunità. Come cristiano l'augurio di riscoprire il gusto e la gioia dell'essere cristiani. La pandemia ha messo a dura prova anche i più giovani divisi appunto tra scuola, università, tempo libero, ma il mondo accademico adesso nel 2022 spera di ripartire, come ci dice appunto al microfono il rettore dell'Ateneo di Cagliari, professor Francesco Mola. Si chiude un altro anno difficile, segnato anche questo da una lunga emergenza sanitaria. Cosa possiamo augurarci, professore, per il 2022? Per il 2022 innanzitutto auguro a tutte e tutti di avere ancora la forza di combattere, non abbassare la guardia. non soltanto con le vaccinazioni, non soltanto con la parte sanitaria pura, ma principalmente con la parte di protezione personale, di attenzione e di rispetto di un momento veramente difficile. I nostri comportamenti sono comportamenti che condizionano poi il resto. Solo questo ci permetterà di non subire ulteriori danni. Due anni sono veramente tanti e quindi dobbiamo fare di tutto affinché questo che ormai sembra essere un qualcosa che ci accompagnerà per molto tempo possa essere da noi governata in maniera tale da non avere rallentamenti. È comunque ottimismo. L'ottimismo è poi la molla di ogni cosa. In particolare per gli studenti, per la comunità accademica così numerosa dell'Università di Cagliari? L'augurio è quello di riuscire sempre di più, di mettercela sempre con tanta passione, con tanta voglia, ma allo stesso tempo con tanto impegno. È solo con l'impegno che riusciamo a vincere. È importante che tutte e tutti comprendano quanto sia importante la vita dell'Università. La vita non a distanza, ma in presenza. Rimaniamo a Cagliari per gli auguri del sindaco Paolo Truzzo e i suoi concittadini affinché il capoluogo possa respirare nel 2022 un'aria nuova. Sentiamolo. Ci si chiede sempre che anno sarà, l'anno che verrà e allora cosa ci si augura per questo 2022? Io ho l'augurio che faccio a tutti i nostri concittadini, a tutti i sardini, a tutti gli italiani di un anno di normalità e di serenità. Penso che ne abbiamo assolutamente di bisogno, che ci sia l'esigenza di uscire da questo tunnel, da questi quasi due anni orribili che abbiamo vissuto e quindi si riprenda la speranza, che non è solo un sentimento, un desiderio, ma anche una capacità di progettare il futuro. E come dicevo, ci sia la possibilità anche di creare opportunità per tutti. E allora anche un augurio ai suoi colleghi, sindaco e ai tanti primi cittadini che in questi lunghi mesi di emergenza sanitaria sono stati tanto provati e così tanto hanno dato per le loro comunità. L'augurio ovviamente a tutti, assolutamente, l'augurio e l'abbraccio veramente di cuore a tutti i colleghi e abbracciando loro abbraccio tutte le comunità, ovviamente, tra le tante comunità, i 377 comuni e cittadini dei comuni che abbiamo in Sardegna. E questo abbraccio del sindaco di Cagliari al suo collega invece di Oristano, Andrea Luzzu, che anche egli ha voluto augurare buon anno ai cittadini auspicando che il 2022 possa portare un po' più di serenità nelle case degli oristanesi dopo due anni così difficili. Sentiamolo. Carissimi oristanesi, a nome dell'amministrazione comunale vi formulo i più cordiali e affettuosi auguri di buone feste, di buon Natale e di buon anno 2022. Da passare chiaramente insieme alle vostre famiglie, ai vostri cari, alle persone a cui volete bene. Purtroppo pensavamo, a fine 2021, di non essere in questa situazione sanitaria. Il quadro epidemiologico purtroppo è in peggioramento, Oristano si sta difendendo molto bene, ma sapete perfettamente che le notizie dalla Sardegna, dall'Italia, dal resto del mondo non sono confortanti. Quindi l'invito è a mantenere la prudenza, usare la mascherina, mantenere il distanziamento, chiaramente festeggiare, stare insieme alle famiglie, ma senza esagerazioni. È un invito veramente sentito, è quello di vaccinarvi. Credo che sia l'unico strumento in questo momento per limitare i danni con la pandemia. Quindi vaccinatevi e fate vaccinare i vostri figli, fate vaccinare i vostri parenti, perché è l'unico modo per combattere questo flagello che ormai da due anni ci sta rendendo la vita difficile. Ma noi non ci abbattiamo. Buone feste di nuovo a tutti. Adesso noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Torniamo in studio per la seconda parte del nostro Tg della Domenica. Questa volta gli auguri delle organizzazioni sindacali. Cominciamo proprio dalla CGL Sindacato che guarda al futuro dei lavoratori in un momento ancora di difficoltà del Paese, così segnato dalla pandemia. L'augurio che mi sento di rivolgere a tutte e tutti noi per il nuovo anno e che sia l'anno che ci vede uscire da questa pandemia. L'uscita dall'emergenza sanitaria che dovrà venire all'insegna del lavoro perché è il lavoro che ci ha permesso di contrastarla in questi anni e sarà il lavoro che ci permetterà di riprendere un percorso di crescita. Ma dovrà essere un lavoro di qualità, un lavoro che porta con sé dei diritti e un lavoro in sicurezza. Tutti insieme dovremmo essere capaci di dire basta alle morti sul lavoro. E quindi l'augurio per il nuovo anno è che sia un anno all'insegna dell'equità, un anno all'insegna della giustizia sociale, un anno che rimetta al centro delle politiche, in particolare quelle della nostra regione, gli ultimi, quelli che sono rimasti esclusi e che rischiano di restare indietro anche in un percorso di crescita e di ripresa. Parliamo tanto di transizione ambientale, di transizione tecnologica, ma io credo che la vera transizione a cui dobbiamo ambire è una transizione sociale, una transizione che guarda le donne e gli uomini e che le rimetta al centro nelle scelte della politica, le rimetta al centro in tutte le scelte di programmazione che riguardano i percorsi di sviluppo e di crescita di un paese e di una regione. Le lavoratrici, i lavoratori, le pensionate e i pensionati e chi invece è ancora in cerca di un lavoro devono essere l'oggetto di maggiore attenzione e i soggetti sui quali concentrare tutte le iniziative politiche. Questo è il vero augurio che voglio fare a tutte e tutti voi per il nuovo anno. Buon 2022 a tutti! Adesso gli auguri della CISL per la ricostruzione sociale ed economica della Sardegna a cui tutti guardiamo con fiducia e determinazione. Anche il 2021, verso la fine, ci consegna preoccupazioni e difficoltà dal punto di vista dell'aumento del contagio. Il coronavirus non accenna a fermarsi, muta in continuazione, diventa più contagioso e questo è motivo di grandissima preoccupazione, pericolo per le nostre comunità e per le persone più fragili in particolare. Occorre darsi da fare per migliorare il sistema sanitario, migliorare la prevenzione, adottare comportamenti opportuni dal punto di vista del contenimento del virus e noi tutti operatori anche del sociale promuovere una massiccia vaccinazione delle persone. Occorre anche contrastare la povertà che avanza, un milione in più durante il 2020 nel Paese e molti, molti in più anche in Sardegna. Occorre fare di più dal punto di vista del contrasto alla povertà, della promozione del lavoro, della risoluzione delle numerosissime crisi esistenti in Sardegna. Bisogna fare in fretta, occorre che il Presidente della Giunta apre immediatamente i tavoli con le parti sociali e includa le parti sociali in un grande tavolo di partenariato per individuare le priorità per la Sardegna, per risolvere i problemi che sono di sussistenza per i sardi e che preoccupano tutta la popolazione per il futuro. Questo 2022 quindi si apra per i lavoratori come auspicio, come augurio nel segno della salute, del lavoro e della coesione sociale. Questo è quello che ci aspettiamo e questo è quello che chiediamo alla politica, all'istituzione di attivare insieme a noi con un ottimismo del fare. Adesso l'augurio della UIL affidato alla sua segretaria generale Francesca Tica per riconsiderare i modelli di sviluppo all'interno dei quali sia il lavoro che la dignità del lavoratore dovranno riacquistare la centralità che merita. Allora un 2022 nuovo, bello, solare che ci faccia uscire da questa situazione cupa difficile che la Sardegna, l'Italia e il mondo sta ancora vivendo. Un 2022 con lavoro per i giovani, con un PNRR che ci veda attori importanti in quella che è la ripresa, la ripresa nelle grandi opere infrastrutturali, nella movimentazione delle persone e delle merci, ma soprattutto nella qualità della vita di tutti, dei bambini, dei giovani, degli anziani. Un 2022 con meno morti sul lavoro, un 2022 fuori da questa terribile pandemia, da questa terribile emergenza sanitaria che ancora ci preoccupa e ci crea una condizione di grande difficoltà. Quindi pensare al futuro in termini positivi, in termini trasparenti, chiari, belli, dove la vita riprenda e riprenda bene per i Sardi. Grazie. Adesso il mondo delle campagne che ha patito tanto per la pandemia, ma anche per il maltempo che ha imperversato in questi ultimi mesi dell'anno per l'agricoltura, l'augurio di un 2022 anche senza il freno della burocrazia. Faccio i migliori auguri di un sereno Natale, di un felice anno nuovo a tutti i soci e a tutti i Sardi, ricordando loro che se vogliamo creare quell'economia circolare è importante consumare i prodotti locali. Il nuovo anno che parte sotto i migliori auspici, infatti una legge fortemente voluta da noi con i diretti, quella sulle pratiche sleari, farà sì che non si potranno più pagare i prodotti agricoli al di sotto di quelli che sono i costi di produzione. Questo ragionamento vale per tutti i prodotti dell'eccedenza dell'agroalimentare sardo, dalla carne, dal latte, dal vino, dall'olio. Sta a noi adesso utilizzare al meglio questo strumento. Nuovamente auguri e un sereno Natale a tutti i Sardi. Infine la gente comune, i Sardi, quello che vogliono, quello che sperano per il 2022, guardando appunto con fiducia all'anno che appena è iniziato, purtroppo sempre con l'ombra del Covid. Vediamo. Allora ci auguriamo sicuramente che sia un anno migliore e di passarlo bene. Ma spieghiamo tante cose belle. Per essere peggio che sia come quest'anno, cos'altro potrei dire? Quindi che non peggiorino le cose, diciamo. Per il 2022? Mi auguro senza questo virus. E' quanto meno. E' tranquillità. Di star bene tutti almeno. Per noi giovani che si possa tornare a vivere, anche per il lavoro, che si possa tornare a viaggiare, fare esperienze all'estero, perché per me, ma per noi sta diventando pesante. Per noi è un po' più stabile, è possibile fare anche programmazione per noi che abbiamo imprese. Speriamo il meglio sia per il Covid che finalmente passi e possiamo riprenderci, che ci porti tanta fortuna e sia un'ottima ripresa. Lo possiamo dare un augurio per il 2022, sperando che almeno si apra qualche spiraglio positivo. Non posso dirle altre. Speriamo di riuscire a tornare presto alla normalità. Questo è grande. Per noi che non siamo più tanto giovani. Basta Covid, soprattutto, e anche le mascherine, basta. Basta. Le mascherine, sì, esatto. Per il 2022 mi auguro un anno senza tutte queste preoccupazioni, fondamentalmente, che si possa tornare ad una vita normale e a vivere, insomma, serenamente, vivere e lavorare serenamente. Augurando, mezzo su dei commenti di Muscom, a che intorno? Era l'ultimo servizio. Naturalmente, io vi ringrazio. Il nostro augurio è che possiate ancora tenerci compagnia per i prossimi 12 mesi, così da apprezzare l'impegno di Telecosta Smeralda per offrirvi tutti i giorni un'informazione seria e corretta, ma anche programmi e produzioni di alta qualità. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro ancora buona domenica e naturalmente ancora buon 2022. Arrivederci.